Francesco Brighigna, coach dell'Alto Tevere Volley Club San Giustino, ti hanno affidato la squadra che per la prima volta debutterà in Serie C. Quale obiettivo, quali intenti? Innanzitutto Francesco è un'altra grossa responsabilità. Sì, questo è vero, però credo che sia anche forse la cosa più stimolante, più interessante, chi è che sceglie poi di occuparsi di sport. È giusto anche che in qualche mondo si prenda delle responsabilità e che si mette in gioco anche in delle esperienze nuove. Tutto è successo molto velocemente, devo dire, e ho trovato in questa società un grande entusiasmo, degli obiettivi che sono importanti, cioè quello di riuscire in qualche modo a competere anche ad un livello più alto rispetto a quello dove erano fino a questo momento. Per rispondere alla tua domanda, quali obiettivi? In questo momento è difficile dirlo, non perché chiaramente vogliamo tirarci indietro. Credo che non sia forse il momento giusto per fare dei proclami. La squadra è in fase di costruzione, stiamo lavorando duramente, stiamo lavorando sodo per cercare in qualche modo di trovare le risorse umane che consentono di allestire questa squadra. Una volta che, diciamo così, il cerchio sarà chiuso, sarà possibile avere un'idea più precisa. Però ecco, quello che è importante e che devo senz'altro mettere in evidenza è che ho trovato una grande ambizione, che non è molto semplice in questi momenti di difficoltà, un po' a 360 gradi. Quindi credo che questo sia sicuramente un buonissimo punto di partenza. Sulla carta, oltre al derby con Città di Castello, sulla carta è un campionato, ci dicono, competitivo. Ci sarà da lavorare sudo? Sì, è un campionato competitivo perché le realtà femminili, a differenza di quelle maschili, sono quantitativamente importanti. C'è un numero di squadre abbastanza elevato. Il campionato scorso doveva essere un campionato a 18 squadre, poi se ne è ritirata una, era 17 squadre, il che significa 32 gare, significa molti turni infrasettimanali, che per un livello sia agonistico ma non professionale sicuramente richiede un impegno abbastanza elevato. Quindi, diciamo, c'è da fare, senz'altro. L'aspetto forse interessante del femminile rispetto al maschile è che non ha sofferenza da un punto di vista numerico. Quindi questo ci consente in qualche modo anche di essere molto attivi, sia nella nostra fase di mercato, avere, diciamo così, più scelta dove poter intervenire. Comunque è un campionato sicuramente impegnativo, questo senz'altro. Molto lungo, finirà play-off o play-out fino a fine maggio. Un'ultima veloce domanda. Inizierete dopo Ferragosto, presumo, e vi allenerete al Palachemon. Sì, quello sarà il nostro campo di gioco, sarà anche evidentemente il campo dove ci alleneremo. Questo è sicuramente un elemento a nostro favore, perché un impianto così ben strutturato, così ben attrezzato, ci permetterà di lavorare bene. La data di inizio, ancora, ecco, ripeto, questi dettagli non sono stati definiti, però presumibilmente il campionato comincerà il 19 di ottobre, quindi credo che gli ultimi giorni di agosto cominceremo ad entrare in palestra, chi in un modo chi nell'altro, perché qualche ragazzo dovrà fare un po' del lavoro differenziato, però a grosso modo le 6, 7, 8 settimane canoniche di preparazione.